Oggi ho letto una notizia. Un uomo fortunato è arrivato a destinazione e sebbene la notizia fosse piuttosto triste mi è venuto proprio da ridere. Ho visto la fotografia, si è spaccato la testa in un'auto, non si era accorto di essere passato col rosso. Una folla di gente stava lì a fissarlo. Avevano già visto il suo volto, nessuno era davvero sicuro ma pare che fosse un politico importante. Mi sono svegliato e sono caduto giù dal letto, mi sono passato il pettine fra i capelli, sono riuscito a scendere per bere un caffè e alzando lo sguardo mi sono accorto che ero in ritardo. Ho trovato il cappotto, ho afferrato il cappello, ho preso l'autobus al volo e sono riuscito ad andare di sopra a farmi una fumatina. Qualcuno parlava e sono entrato in un sogno, a day in the life. Grazie a tutti. 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 Emanuele Bellini. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.